Siamo tutti in ritardo qua Omar e Steliem non sono ancora arrivati Fra 45 minuti dovrebbe chiudersi il gate E noi stiamo sentendo il cazzo Omar, dove sei? Dai, com'è? Dai, stai Stai Vergogno No face no case Oti ha preso il numero dello spacciatore per stasera ahahah ahahah babush babush ma chi si babush ma bella babush la bella oh la la allora tiriamo tutti fuori il bancomat facciamo la destrazione e destrae il cameriere ok ci stai ci stai ahahah ahahahahah ahahahahah ahahah 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 Grazie a tutti 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 Oh i ragazzi sono carichi stasera Da quelle sono passate a queste Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E' come un bambino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti